Mi chiamo Davide Capra, in famiglia siamo in cinque, mia moglie e tre figli. Sono 22 anni che faccio questo mestiere, nei prossimi giorni andremo a piantare in montagna. Le piantiamo più tardi così le raccogliamo anche in un momento diverso. Da soli non vengono, adesso parto solo a metà in cinque.